Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio della Computer Museo, siamo qui sempre per il nostro Elevator Action 2 E' veramente un bellissimo gioco, Cross the Breeze E praticamente, cosa sta succedendo? Ah bene, entriamo proprio con un'entrata trionfale, entrando con l'elicottero diretto all'interno Allora Come vedete, Return of, scusate, Elevator Action, il primo videogioco era sempre lo stesso luogo noioso Lo stesso noioso luogo tipo hotel Adesso abbiamo più armi, abbiamo molti più luoghi E' bello lanciare, cioè tu puoi lanciare un coso così, siamo a posto, ok ho capito Entriamo nella porta rossa Ah quello lì è morto così, allora noi dove cacchio però dobbiamo andare? Porca vacca, no mi han colpito Dov'è che sono? Ma voi mi vedete? Ah scusate ma ho premuto il tasto Ah ecco ora c'ero, però Eh avevo premuto il tasto Usiamo lo stavolito personaggio Ah eccomi, ora mi vedo Perfetto, non mi vedevo, non so dove cacchio ero andato a finire Ovviamente tutte, oh no ci sono i robottini Che brutti Sembrano, sembrano i granchi Oh no bomba bomba Ecco diciamo che è anche più già incasinato qua eh Andiamo, wow Eh qua ci voleva un altro tipo di arma però Mi pare che abbiamo anche tipo bombe a mano o qualcosa di genere Ma per lanciarle, ah ecco, ne ho lanciata una ma non so come ho fatto Ecco adesso arrivano gli elicotteri Se voi vi piazzate Ma si può lanciare una bomba? Ecco ho lanciato un po' il colo, un peccato che non servirà un cavolo perché l'ho lanciato tutta da qua Devo capire come si lanciano le bombe a mano Diciamo che ce ne sono un po' eh E voi vi direte dove cacchio hanno fatto? Hanno fatto la spesa leader qua per avere il 3x2 su questi personaggi Fì Anche io voglio un jetpack del genere Oh ma sta donna se la fate incazzare avete finito di vivere eh Fatti fuori tutti Ecco, Trenitalia Oppure Trenicagna perché c'era un caglio Non so perché ho detto sta battuta squallida No forse devo entrare qua dentro Ah si devo entrare Sembrano le vecchie mappe autobit di Trenitalia Mi sto divertendo con poco, si vede? Fate un po' a destra e un po' a sinistra Quando si suota Mi sta scivolando il tasto Tanto non verrete mai colpiti se state il primo Aspettate che mi sto Mannaglia la puta Ma quanti minchia siete Fate conto che li sta uccidendo tutti lei eh E' arrivato il boss Ecco il boss Quella madre Che è successo? Ah forse gli ho fatto esplodere la bomba Eh jump Oh no Non ci credo Oh hai rotto le scatole Jump E però devo scendere di solo Ah ok ho capito Non ho fatto niente Sì voglio continuare Cioè cambiamo personaggio Andiamo a mettere Arnold Schwarzenegger dei poveri E Ci sarà un Ah eccolo lì Lascio il sole Eh lo so che devo andare lì eh Un secondo Se mi dai un secondo Scusi mi dà un secondo? Oh mannaggia Ok ci sono delle scatole Vediamo Non c'è un cavolo C'è solo Boom 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 Tutto Ma quanto sono alti Sti cosini? Un metro e un cacchio? Ok Risolto Abbiamo preso Eh Un altro Adesso ci nascondiamo Un secondo qui Vediamo eh Scusate Un momento Che mi è arrivato Un messaggio importante Ora Giuro che non Guardo più il telefono Vediamo Ok via Se sarà Ecco Chuck Morris Qualcuno voleva Ho un'idea Oh È arrivato Chuck Morris Dei poveri Ma questo deve sbuccare Ogni volta No Mi ha colpito Bolta Ma non sono salito Videogioco Non vedi che non sono salito Sono qui Oh Sti cosmi Ha rubato Ha detto Gesù O sbaglio Il videogioco Oh Ho capito Ora come si lanciano Il videogioco Cioè Cioè Li sono saltato addosso Ed è esploso Non fa una piega Il videogioco Oh E basta Mo arrivo io Ma quel Dump Dump No Mi sono fatto schiacciare Ah Perfetto Si comincia Il piano superiore Potevi morire Prima Allora Oh Ecco Con effetti Esplosivi Adesso dovrebbe Succedere qualcosa Se mi ricordo bene In sala giochi Succedeva qualcosa Non succede un cazzo Dai Giacchicciando i poveri Se sembrate Delle galline Oh E infatti Mi ricordo bene Eccolo lì Il capo Perfetto 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 Abbiamo anche finito qua Il secondo livello Continueremo la puntata Sul terzo livello Domani alle ore 21 Grazie ancora per aver visualizzato Questo video Ci vediamo Alla prossima puntata Ciao ragazzi Alla prossima puntata